Benvenuti su, Damp, l'argomento di oggi è, i mob devais erro. Ci sono giunte molte segnalazioni da più parti di Venezia. Alcune validatrici si sono impallate, forse si tratta di un errore diffuso nel sistema. Il fenomeno si presenta come una continua ripetizione di un messaggio di errore, alternato da 3d per una luce rossa. Se vi capita di trovare un malfunzionamento del genere, non dimenticatevi di segnalarcelo a numero di telefono 0200615714. Segnalatelo anche alla CTV in modo che possa risolvere il problema. Vista la tempistica, sembra trattarsi di un aggiornamento relativo alla sicurezza del sistema i mob. Questa resta comunque una supposizione tutta da verificare. Tramaci.org, comitato no mob. Sono disponibili nuove informazioni interessanti nella sezione Damp. Grazie.